Amici dell'edicolo del sud, oggi siamo tornati a Parco 2 Giugno, ci eravamo stati l'ultima volta circa un mese fa per raccontarvi insomma tutta quella storia delle baby gang, delle aggressioni ai minorenni, la sapete, la conoscete benissimo. Perché siamo tornati? Perché intanto in questo mese le indagini sono proseguite e ci sono stati degli aggiornamenti importanti. In particolare sono stati arrestati due ragazzi, due diciottenni, ritenuti responsabili delle tre aggressioni, in particolare dell'ultima, avvenuta lo scorso 4 febbraio. A far specie oltre alla giovanissima età dei ragazzi sono le modalità con cui sono avvenute le aggressioni, infatti dalle indagini è emerso che uno dei due diciottenni abbia costretto una vittima a inginocchiarsi, a baciargli le scarpe e una volta che quest'ultimo si è inginocchiato l'ha preso a calci i pugni e non contento alla fine si è fatto anche consegnare il telefono cellulare. Questi due arresti sono importantissimi perché oltre al fatto che finalmente è stata fatta giustizia sono il segnale che quando le cose si denunciano i problemi effettivamente vengono risolti. In questo mese è successo davvero di tutto. Il prefetto ha incontrato le associazioni dei genitori, l'associazione Bulli Stop, le indagini sono proseguite che hanno portato all'arresto dei due diciottenni e speriamo che questo serva da deterrente e faccia capire a tutte quelle baby gang, a tutti quei ragazzini che si improvvisano malavitosi che il parco non è zona loro. Infatti dalle indagini è emerso appunto il fatto che quando le vittime sono entrate nel parco 2 giugno appunto questi ragazzini gli abbiano detto andatene perché questa è zona nostra. Ricorderete sicuramente l'intervista che abbiamo fatto a un nonno che ci ha detto ho paura di portare la mia nipotina al parco. Bene il parco come qualsiasi altro luogo della città non dovrebbe essere un luogo in cui aver paura di venire. Quindi speriamo che episodi del genere non accadano più, dall'aggressione del 4 febbraio non ci sono state ulteriori denunce, noi ci spieghiamo che la situazione continui così. Voi intanto continuate a farci le segnalazioni di tutte le cose che non vanno nelle vostre città, nei vostri quartieri ovviamente su tutti i social dell'edicola del sud.